Franco, parlare qui, ti ascolto. Ti ascolto Franco, senti. Dite, dite, mi è sembrata la voce di donna. Franco, grazie Franco, non lasciavamo ci sfuggire, questo tempo dirà, mi è importante che anche questi posti vengano conosciuti, ma troppo non è che ci sono come vedi questa vita. Ti ascolto, non mi è scoraggiato di continuare, pensò di questo, da fidersi del Signore, stavano in un fisso e credetero nell'incontro vero. Ho capito perfettamente perché quello che mi avete detto è realtà. Anche se sono spaventato e mi fa paura veramente. Questa realtà è il nostro nome, la strana. Oh, oh, oh. Wow.